Ha scelto il centro storico di Chieti, la piazzetta Teatro Mario Zuccarini, la prima edizione dell'evento L'Agenziana d'Abruzzo, a cura dell'Associazione Nazionale Amaro d'Italia, una vera e propria giornata dedicata alla conoscenza e alla degustazione del liquore tipico abruzzese, ideata da Edoardo Schiazza, presidente dell'Associazione Nazionale Amaro d'Italia, in collaborazione con il Comune. All'interno delle attività generali dell'Associazione, che ha già realizzato la fiera dell'Amaro d'Italia, fa delle degustazioni online in presenza, ha uno strumento che si chiama l'Atlanti Interattivo dell'Amaro d'Italia, praticamente all'interno di queste nostre attività abbiamo pensato anche alla valorizzazione di un prodotto tipico abruzzese che oltre ad essere naturalmente un prodotto di grande notorietà perché viene utilizzato praticamente in quasi tutti gli amari italiani e anche particolarmente apprezzato in Abruzzo, dove ha innumerevoli produttori, come vedete in questa occasione abbiamo coinvolto 12 produttori di Genziana d'Abruzzo e in questa occasione è possibile fare un tour all'interno della città di Chieti. C'è anche la possibilità di una visita guidata all'interno di un comparto che io definisco Santa Maria Porta Pescara, dove ci sono locali che per questa serata hanno adottato le genziane presenti qua nella piazzetta Mario Zuccarini e quindi ci sarà anche un tour guidato dalla dottoressa Lupo.